E noi lo andiamo ad ascoltare in diretta, Ezio Capuano, a cui facciamo naturalmente i complimenti. Visto che festeggiava gli ultimi cinque minuti, chiamava il calore del pubblico, direi meritatissimo. Si giocava la permanenza in terza serie, quando sono arrivato tutti mi dicevano sei matto, dove vai? Sono già retrocessi e altre cose. È normale che certifichi ancora con due giornate dalla fine una salvezza in maniera meritatissima se si pensa a tutte le nefantezze che abbiamo subito. Facendo una prestazione leggera contro una grande squadra che nelle ultime partite aveva schiacciato tutte le squadre è bello, anche perché per la prima volta oggi si è visto un po' di pubblico, abbiamo giocato sempre tutte le gare senza pubblico. Penso che abbiamo fatto una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista. Una chiave di questa prestazione, pronti via, già due gol, so io ho visto un'aggressività e una corsa che hanno subito messo a cappare il Pescara. Ma noi studiamo molto l'avversario, molti pensavano che noi facessimo fase di rinculo, scappavamo dietro e facevamo fase di non possesso. Probabilmente, allora il problema è questo, lo posso spiegare io? Prego. Ci sono due tipi di allenatori, come dice un grande mio collega. Quello che lavora per se stesso, fa il palleggio, dieci tocchi, allora è bravo perché fanno il tiki-taka. Poi c'è l'allenatore che enfatizza le caratteristiche dei giocatori. L'allenatore che va sul risultato, quello è visto come Catania-Aciaro e come difensivista. Noi non ci siamo mai difesi, noi intanto abbiamo la seconda miglior difesa perché nove gol non li ho presi io, li ha presi il mio collega quindi si diceva che noi siamo la quarta, ma noi veniamo sempre su ad attaccare. Ma chi si aspettava che noi fossimo bassi contro un attacco del genere, contro una squadra che viene con le catene continue a destra e a sinistra e va sotto con i due intermedi, vuol dire che sono malato. È normale che attaccandoli alti, isolando i tre davanti, avrebbero avuto loro grandi difficoltà e noi saremmo stati facilitati. Ha mandato K.O. Zeman? No, non abbiamo mandato K.O. nessuno, io ho aiutato soltanto i miei ragazzi a vincere. Le faccio una battuta su quello che ha detto Zeman in conferenza, intanto ha ricordato di quando lo andava a trovare a Salerno, il bar? Sì, lui era alla Salernitana, io abitavo lì al Parco del Bostella, al Bar Verdi, ci si vedeva spesso, è sempre un piacere vederlo. Lei e Zeman ieri ha detto che in difesa la squadra di Capuano è molto organizzata, fa benissimo, poi però in attacco trovano quello che trovano. Oggi ha trovato tre gol. Io non lo rispondo perché ho troppo rispetto, lui non può dire improvviso no davanti. Trovano quello che trovano? Non trovano, noi ci prepariamo perché noi quando ripartiamo allarghiamo di taglio la punta, diamo l'ampiezza, non è giusto. Non è giusto, poi ognuno può dire quello che vuole. Io sto zitto oggi, potrei parlare no? Però sto zitto perché rispetto Zeman, un maestro e soprattutto è un'età avanzata. Le chiedo un'ultima cosa, le chiedo Capuano di aiutarci a leggere i playoff del Pescara, dove magari potrebbe esserci anche il Taranto, perché il Taranto è lì eh? La classifica lo dici? Guardi, chi conosce Capuano sa che noi non molliamo di un millimetro fino alla fine. Io sono un uomo di calcio, lavoro da 33 anni, quindi noi faremo ogni partita come una partita della vita. Come se abbiamo fatto oggi, quindi se qualcuno si aspetta che noi possiamo mollare, non esiste. Il Pescara è una grossa squadra, se non c'è un bra di dubbio, come sono forti altre squadre. Oggi ha trovato una squadra aggressiva, ben messa in campo e bisogna dire sciapu al Taranto, perché poi dove diminuiscono i meriti aumentano anche i meriti della squadra avversaria. Cinque gol fatti al Pescara in due partite, zero subiti. Pescara non è che le vogliono tanto bene, scherzo. Pescara è una città stupenda, bellissima. Stai candidando? No, alla mia età. Sono 33 anni che alleno sempre, cioè quindi non mi debbo candidare, perché penso che la mia storia parla in modo inequivocabile. Grazie.